È stata una bella partita perché si affrontavano due squadre tecnicamente molto valide che avevano anche entrambi un'ottima organizzazione di gioco, buone individualità. Diciamo che abbiamo rispettato anche la classifica finale, i valori della classifica finale, i nostri valori, i valori nostri ovviamente anche del Savoio, però in una partita dove comunque l'abbiamo meritata tutta. L'abbiamo meritata perché abbiamo giocato magari più noi, la partita l'abbiamo fatta più noi che loro, siamo andati sotto di una rete in maniera immeritata dopo aver avuto 4-5 opportunità per fare gol nel primo tempo e poi nel secondo invece abbiamo accelerato e abbiamo meritatamente portato a termine con la vittoria nostra finale questa gara. Domenica è tanto. No, intanto vorrei dire anche che questa vittoria, oggi visto che è la festa della mamma, la dedichiamo a tutte le mamme che sono una risorsa infinita di amore nei nostri confronti e poi fra le tante c'è anche la mamma dei fratelli grieco che oggi era disperata alla fine del primo tempo sotto di una rete e questa vittoria e questa forza che abbiamo mostrato nel secondo tempo di ribaltare il risultato la dedichiamo sicuramente a lei.